All'Arum di Pescara c'è stata la presentazione dell'ASD Florida, questa bella realtà di calcio 5 femminile che dopo aver ottenuto una brillante salvezza nel campionato di Serie A2 si appresta ora a partecipare a questa Coppa Italia con grandi ambizioni. Quella del 26 aprile potrebbe essere davvero la classica ciliegina sulla torta di una stagione per voi comunque da incorniciare? Sicuramente, considerando che lo scorso campionato navigavamo in zona playoff all'atto della sospensione la possibilità data purtroppo dalla rinuncia di molte franchigie che avevano un diritto acquisito sul campo per partecipare al campionato di categoria superiore ovvero quello della A2 nazionale ci ha dato la possibilità di chiedere un ripescaggio dove obiettivamente fra tutte le squadre che lo hanno presentato siamo risultati di gran lunga i primi soprattutto per anzianità di matricola a FIGC e anche per meriti sportivi acquisiti con i successi ottenuti in questi anni. Vogliamo un attimo parlare della vostra realtà? Quando io e mio padre abbiamo deciso di rilevare questa società era già una realtà che aveva saputo consolidarsi anche a livello di successi e di importanza nel mondo del calcio a 5 femminile noi il primo anno che abbiamo rilevato la società appunto grazie a quel gruppo di ragazze quindi senza ulteriori innesti ma quindi valorizzando il patrimonio preesistente mantenendo un tecnico che io ho sempre amato definire fuori categoria perché era Marcus Vinicius Lona che è uno dei giocatori di futsal più forti che abbiano mai calcato le scene in Italia quindi con lo stesso roster come si dice in gergo abbiamo vinto il campionato di Serie C regionale e abbiamo vinto la Coppa Italia allora di categoria quindi abbiamo iniziato una progettualità appunto in quel senso valorizzando quello che esisteva e l'idea successiva è stata sempre quella di creare un movimento giovanile di base forte dietro la realtà preesistente grazie grazie